salve a tutti benvenuti bentornati come sempre invito a iscriverci un like condividere commentare nuovo capitolo riguardo all'analfabetismo funzionale per i 10.000 iscritti al canale youtube ho realizzato un video in cui parlavo di analfabetismo funzionale e ci ritorno a parlare per quale motivo beh perché sempre di più l'analfabetismo funzionale deve essere insomma dimostrato e spiegato e in questo caso voglio prendere a dimostrazione uno short che ho pubblicato su youtube e pubblicato anche lo stesso video su tiktok di una dichiarazione di johnny floris a fabio fazio alla prima puntata di che tempo che fa sulla 9 adesso ascoltiamo che dice giovanni floris e poi ritorniamo tanto è brevissimo se noi fossimo in medio oriente noi saremo israele per come pensiamo come ragioniamo ci piaccia netanyahu ci piaccia la palestina ma il nostro modo di ragionare portato dalle nostre esperienze la nostra vita i nostri film dai nostri libri ci porta a essere quelli tanto più abbiamo la responsabilità di saper far vivere una democrazia in quel contesto e in fondo noi siamo quello come dicevi tu quello che abbiamo immaginato quando eravamo ragazzi che abbiamo riscontrato quando eravamo più grandi avete sentito che cosa dice giovanni floris se l'italia fosse in medio oriente sarebbe israele e ha spiegato molto brevemente e sinteticamente per quale motivo allora non potete immaginare quanti commenti mi sono arrivati di insulti minacce volgarità nei confronti di floris già il fatto che testimonia che se le persone riflettessero un momento loro non stanno interagendo con giovanni floris ma il video pubblicato io minacce insulti volgarità sono anche nei commenti della 7 io ho dovuto cancellare quasi la totalità dei commenti in questione per mantenere un ambiente della community pulito d'accordo perché certe cose io ho sempre affermato non le accetto nella mia community ma analizziamo già che si insulta qualcuno che esprime una opinione differente da quella che può essere l'opinione da un altro è sintomo di non capire che cosa sta di cosa si sta affluendo di cosa si sta vedendo di cosa si sta ascoltando di cosa sta leggendo perché si invoca tanto la libertà per se stessi ma non si rispetto alla libertà degli altri è un'opinione di giovanni floris che tra l'altro io sostengo nel senso che non ha detto nulla di sbagliato e capiamo immediatamente per quale motivo se l'italia fosse in medio oriente sarebbe israele voi sapete dove si trova israele e da chi è circondato israele in medio oriente si trova in una posizione geografica che è circondata da nazioni che sono tutte quante di religione islamica israele è l'unica nazione ebrea quindi già questo è la prima il primo elemento che la contraddistingue è la differenza da diciamo i vicini di casa ed è l'unica democrazia è l'unico stato democratico dove praticamente ci sono gli stessi diritti ci sono gli stessi usi costumi di quelle che è una nazione occidentale come questa è l'italia come questa è la francia come può essere la spagna insomma prendete il modello di una nazione occidentale di una democrazia appunto l'italia e mettetela in quel contesto circondati da nazioni dove anche solo faccio un esempio in israele c'è uno dei pride più importanti della comunità lgbtq plus nelle altre nazioni intorno ad israele nazioni islamiche parlare già solo di omosessualità può essere un problema molto molto serio l'italia se fosse al posto di israele sarebbe una condizione simile per libertà di pensiero per cultura per arte cinema letteratura libertà dei diritti delle persone dei diritti civili mentre le nazioni confinanti non hanno tutta quanta questa libertà è questo quello che vuole intendere floris come ho detto io non voglio entrare nel merito della questione israelo palestinese ma vi ho spiegato per quale motivo insulti minacce volgarità sono nei confronti di gianni floris un analfabetismo funzionale perché non si comprende il contesto generale alcuni molto probabilmente non sanno neanche la geografia del di dove si trova israele e da chi è circondato quindi per questo l'italia se fosse il medio oriente al posto di israele sarebbe israele e ripeto per tante libertà per il modo di pensare per il modo di vivere per i diritti civili per proprio la struttura di stato democratico mentre invece nelle nazioni confinanti non c'è nulla di simile e come ho detto basti parlare solamente dell'argomento diritti della comunità lgbtq plus ma senza entrare in acronimi alto solamente parlare di coppie omosessuali in un paese confinante con israele sarebbe un problema solo parlarne e l'ho visto miei occhi l'analfabetismo funzionale e non sapere comprendere il contesto analizzarlo e poi farsi un'opinione stiamo sempre più ragionando di pancia non stiamo ragionando con il cervello e di pancia si dicono e si fanno tante stupidaggini mentre invece con il cervello che serve ad elaborare analizzare le informazioni è tutto quanto differente quindi prima di scrivere commenti volgari pesanti che tra l'altro chi lo fa non avrebbe mai il coraggio di dire le stesse cose direttamente in faccia alla persona interessata o di scriverle direttamente alla persona interessata perché ci si trincera dietro l'anonimato digitale dietro lo schermo di uno smartphone dietro lo schermo la tastiera di un pc e non si ha poi il coraggio di prendersi le proprie responsabilità nel mondo reale le ho viste di queste cose quindi riflettiamo un pochettino quando vogliamo esprimere un concetto perché se lo facciamo di pancia poi succede questo io vi ringrazio questo questo video capitolo 2 sull'analfabetismo funzionale vi invito a iscrivervi a lasciare un like condividere commentare e noi ci vediamo al prossimo video